La zuppa del coraggio Oliver aveva paura di tutto. Aveva paura dei rumori la notte, di provare cose nuove, di stare da solo. Aveva paura della sua stessa ombra. Ti serve un po' di coraggio, disse il suo amico Zack, e io so dove puoi trovarlo. Il mattino dopo, di buon'ora, Zack portò Oliver al margine del bosco. Lì c'era Grande Orso, l'animale più coraggioso di tutto il territorio. Stava mescolando la zuppa in un pentolone sul fuoco. E così vorresti un po' di coraggio? chiese Grande Orso. Sì, balbettò Oliver. Beh, come vedi io sto preparando un bel pentolone di zuppa del coraggio, ma mi manca un ingrediente importante. Me lo andresti a prendere? domandò Grande Orso. Mi farà diventare coraggioso? chiese Oliver. Garantito, rispose Grande Orso. Ma il viaggio non sarà facile. Dovrai attraversare da solo la foresta proibita, fino alla montagna insidiosa. Sulla sua cima c'è una grotta e dentro la grotta c'è una scatola. Portamela. Oliver trattenne il fiato per la paura. Da solo, foresta, grotta! Le gambe gli tremavano. Sei più coraggioso di quello che pensi, disse Grande Orso. Quando gli animali seppero che Oliver stava per avventurarsi da solo nella foresta proibita, si radunarono attorno a lui. Ecco un'armatura per proteggerti dalle bestie feroci. Ecco un cestino con del cibo. La foresta è piena di piante velenose. Ecco una zatera per attraversare il fiume impetuoso. Ecco un bel bastone per combattere il mostro cattivo che vive nella grotta. Bestie feroci, piante velenose, fiume impetuoso, mostro cattivo! Oliver tremava dalla testa ai piedi. Poi si ricordò delle parole di Grande Orso. Sei più coraggioso di quello che pensi. Ora o mai più, pensò Oliver, e lentamente si avviò nel fitto bosco. I suoi amici rimasero in attesa, sempre più preoccupati. È troppo pericoloso per il piccolo Oliver, si dissero, e decisero di andare a cercarlo. Adentrandosi nella foresta, gli amici di Oliver trovarono l'armatura. Oh, magari si è fatto male! Poi trovarono il cestino con tutto il cibo ancora dentro. Santo cielo, starà morendo di fame! Alla fine, incapparono nella zattera che galleggiava in riva al fiume. Oh no! Il fiume lo ha trascinato via! Ma Oliver non si era fatto alcun male. Aveva ben presto capito che indossando la pesante armatura non avrebbe potuto procedere speditamente. Senza corazza posso scappare più velocemente dalle bestie feroci, pensò. Così se l'era tolta. Oliver non stava morendo di fame. Lungo il cammino aveva osservato che gli uccelli e altri animali si cibavano dei frutti della foresta proibita. E quando vide delle fragole pensò, posso mangiare queste? Così abbandonò il pesante cestino e fece una scorpacciata di quei frutti deliziosi. Oliver non era stato trascinato via. Arrivato al fiume impetuoso aveva notato un albero di traverso sull'acqua. Messa da parte la zattera, aveva cominciato pian piano la traversata, un passetto dopo l'altro. Alla fine era arrivato sull'altra sponda. Ce l'ho fatta! Esclamò contento. Poi alzò lo sguardo. Là, davanti a lui, c'era la montagna insidiosa. Oliver avanzava a fatica. La montagna era coperta di fittice spuglie e piante rampicanti. Mentre tentava di farsi strada, il bastone si spezzò. Poi Oliver scorse delle orme giganti. Aveva trovato la grotta del mostro. Entrò tremando. Alcuni minuti più tardi, i suoi amici trovarono il bastone spezzato vicino all'ingresso della caverna. «Oh no! Oliver è stato mangiato dal mostro!» Ma Oliver non era stato mangiato dal mostro. Scrutò all'interno della caverna e strabuzzò gli occhi. Là, sul pavimento, c'era la scatola. E proprio in quel momento qualcosa si mosse nell'ombra. «Il mostro!» Terrorizzato, Oliver si nascose dietro una pila di massi, ma improvvisamente un pezzo di roccia rotolò a terra. Il rumore spaventò il mostro, che fece un salto e urlò. «Chi è?» chiese piagnucolando. «Cosa vuoi?» Oliver proiettava un'ombra lunga e spettrale. «Possibile che questo terribile mostro abbia paura di me?» pensò. «Mi chiamo Oliver», disse con la voce più forte e profonda che aveva. «Sono qui per la scatola». «Questa scatola?» Il mostro gettò la scatola a Oliver. «Prenditela», disse. «Ma ti prego, non farmi del male!» Oliver prese la scatola e uscì di corsa dalla grotta, scontrandosi con i suoi amici. «Scappate, c'è il mostro!» Scesero tutti di corsa dalla montagna. Superarono il fiume, attraversarono la foresta e fecero ritorno al margine del bosco. Alla fine, stanchi si riunirono attorno al fuoco di Grande Orso. Oliver portava con sé la preziosa scatola. «È il momento», disse Grande Orso. «Apri la scatola». Oliver sollevò il coperchio. La scatola era vuota. Oliver era triste. «Scusa, Grande Orso, non ti ho portato l'ingrediente segreto del coraggio». «E invece l'hai portato», disse Grande Orso sorridendo. «La scatola è sempre stata vuota». «Vuoi dire che ho fatto il viaggio per niente?» domandò Oliver sorpreso. «No, non hai fatto il viaggio per niente», rispose Grande Orso. «Hai affrontato la foresta e la tua paura. Il coraggio non sta dentro la scatola, è dentro di te». «E la zuppa del coraggio?» domandò Oliver. «Si chiama zuppa del coraggio perché la offro solo ai coraggiosi», rispose Grande Orso. «Io sono coraggioso», gridò Oliver e sollevò in alto la sua ciotola. Fine. 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 Fine.